Vituccia Pasceri era una donna invisibile. Viveva ai margini, con una modesta pensione, tra i mille problemi di una vita familiare difficile che le aveva lasciato ferite profonde, sempre aperte, con le quali aveva imparato a convivere. Viveva a malgrado la vita, dedicandosi ai suoi gatti, che soccorreva, portava con sé, dei quali si prendeva cura, donando loro amore e ricevendo da loro quell'amore del quale per tanti, troppi, lunghi, lunghissimi anni della sua vita, era stata privata. Ai limiti dell'indigenza, era nota ai servizi sociali, umile, invisibile, ogni giorno sveglia all'alba, innamorata dei suoi figli, nonostante tutto. La conoscevano i servizi sociali, la conoscevano anche le autorità sin da quando occupò abusivamente un alloggio popolare, lei che non aveva un tetto sotto il quale stare, una storia di miseria, in una società cieca e misera, nella quale Vituccia Pasceri ha vissuto e nella quale è morta. Travolta da un pirata della strada, quando il sole non era neppure spuntato, lasciata esanime sul freddo asfalto, ignorata fino alla morte.